Ben trovati con l'informazione di Napoli News, apriamo il giornale parlando di cronaca. Inventi hanno omesso di specificare le condanne passate in giudicato al momento di compilare la richiesta all'Inps per l'ottenimento del reddito di cittadinanza. 220.000 euro la cifra percepita indebitamente tra marzo 2019 e settembre 2020. Ora sono tutti indagati per truffa aggravata atta al percepimento di soldi pubblici. Tutti legati ai clan della criminalità organizzata, attivi tra la Rastabiese, Oplontina e quella Vesuviana. D'Annunziata d'Alessandro, De Luca Bossi, Minichini, quarto sistema, Batti, Di Gioia, Papale, i nomi dei sodalizi su cui si concentra. L'indagine della Procura di Torre ha annunziata che questa mattina ha messo in moto i carabinieri per l'esecuzione delle misure cautelari. Nel corso dell'intervento sono state sequestrate 12 carte postamat per il reddito di cittadinanza, 4 abitazioni, una quota societaria al 100% del valore di 10.000 euro, 6 autoveicoli, 32 rapporti finanziari, 17.000 euro in contanti, un assegno di 10.000 e un collie in oro. Gli indagati hanno ottenuto in totale circa 220.000 euro senza averne diritto. All'Inps non erano state comunicate le condanne di alcuni congiunti delle persone indagate per reati come associazione mafiosa. I nuovi spazzini lei li ha vissi all'opera? Sono stata una specie di estinzione, non li ho mai visti. Guardando la città la signora aveva ragione, a 48 ore dal capodanno si presenta così, una discarica a cielo aperto. Interi quartieri e rioni, specie nella zona occidentale, sono una distesa di sacchetti, ingombranti ma soprattutto fuochi pirotecnici abbandonati e non raccolti. Eppure dopo le assunzioni dei nuovi dipendenti a Sia, presentati in pompa magna dal sindaco Manfredi al maschio Angioino, la città si aspettava fin dalla mattina del primo gennaio marciapiedi, aiuole e strade non come la Svizzera, ma almeno decenti. E invece la realtà purtroppo è tutt'altra. Dal 2022 al 2023 il decoro urbano è forse ancora di più peggiorato, con i cumuli della vergogna che non risparmiano nemmeno gli esterni degli uffici della ASL. Qui siamo a Soccavo, davanti alla sede dell'igiene mentale, manco a farlo apposta. Fuorigrotta, Bagnoli, Pianura, Via Pomeo, Via Terracina, Soccavo, la zona antistante lo stadio Maradona alle aree maggiormente ricoperte dai sacchetti, con cibo del veglione in avanzato stato di decomposizione. Una situazione, quella dell'igiene urbana in città, che fa infuriare i cittadini. Il comune di Napoli ha assunto i nuovi spazzini, ma a 48 ore dal capodanno c'è ancora tanta spazzatura, i botti ancora lasciati per terra? Eh, e questa è una domanda che bisognerebbe fare al sindaco e all'assessore alla nettezza urbana, non a me umile cittadino. Non li ho visti proprio, assolutamente. Mi stanno ancora tutti i botti a terra, e quindi a parte la spazzatura, pregressa. C'era il giorno offensivo, ovviamente. Ovviamente sarcastico. Eh, va bene. Perché hanno assunto gli spazzini nuovi? Veramente? Non lo so, mi dico una sciocchezza. Molto sporca, molto, ma molto sporca, veramente, è una vergogna, è una vergogna. Sono ancora in corso le indagini per l'omicidio di Luigi Mocerino, 37 anni di afragola, massacrato nella tarda serata del 31 dicembre, con quattro colpi di pistola alla schiena. I killer, che lo avevano seguito, sono entrati in azione in via Mocerino, nei pressi di un negozio di alimentari, dove la vittima aveva appena fatto la spesa per il cenone di fine anno. Luigi Mocerino, quando è uscito dalla salumeria, ha notato due persone che indossavano caschi integrali, ed è scappato a piedi cercando di distanziare i killer, che invece lo hanno raggiunto dopo pochi metri. Uno dei due assassini è esploso quattro colpi da distanza ravvicinata, che hanno centrato la vittima, uccidendola sul colpo. Nel triangolo Cardito, Casoria, Afragola, già da molte settimane si assiste a un tutti contro tutti da parte di quei gruppi criminali che stanno cercando di prendere il potere. Dieci giorni fa, Cardito, è stata ritrovata inesplosa una bomba imbottita di chiodi e bulloni. Il giorno dopo, sempre a Cardito, c'è stata anche una stesa con un proiettile che ha sfiorato uno dei residenti. Due giorni dopo, ad Afragola è stato gambizzato un pregiudicato agli arresti domiciliari e ancora l'esplosione di colpi d'arma da fuoco contro l'abitazione di Francesco Ullaro, nuovo ras del clan Ullaro Pezzella. Gli inquirenti non escludono dunque che l'omicidio di Luigi Mocerino possa essere collegato proprio al raid intimidatorio contro l'abitazione del boss Ullaro. Tra le altre pisse, gli investigatori non escludono nemmeno una faida tra il gruppo parziale e quello capeggiato da sasso in lotta da mesi per assicurarsi il controllo delle piazze di spaccio ad Afragola. Cosa resta del Capodanno in piazza a Napoli? L'esperimento di spalmare su quattro giorni i festeggiamenti per la fine dell'anno senza puntare su Big, nella piazza principale della città, ha avuto un buon riscontro in termini di presenze. Certo, considerate le migliaia di turisti che da mesi affollano Napoli, è difficile scendere l'indotto tra il pubblico che ha voluto assistere all'esibizione e quello che si è trovato per caso. Diciamo subito che Ercomi il 30 dicembre in piazza Plebiscito ha riscaldato poco la platea e che l'idea di fare anticipare l'uscita dell'ex giudice di X Factor da un plotone di agguerrite e giovani artiste è stata vincente. Di grande impatto il tributo a Pino Daniele in galleria, con il colorlario di proteste però dei residenti e dei commercianti. Nella piazza della città la scelta è quella di affidare alla comicità dissagrante di Peppe Iodice, l'addio al 2022. Con lui il nutrito gruppo di artisti napoletani, composto da Lina Sastri, Clementino, Rosario Miraggio e Franco Ricciardi, con l'eruzione di Belen Rodriguez, per cui non si è potuta organizzare la diretta televisiva per motivi di esclusive, e Stefano De Martino. Il comune calcola 50.000 presenze, sono forse un po' di meno, ma in una città di un milione di abitanti con centinaia di migliaia di turisti non è che si possa gridare al miracolo. Eppure la formula lunga ha un suo fascino. L'idea, sostenuta da Ferdinando Tozzi, delegato per l'industria musicale, può essere perfezionata, ma è apprezzabile. È un ritorno straordinario, il sindaco Manfredi nel nome di Città della Musica ha organizzato un capodanno di quattro giorni che è andato benissimo e stasera è una serata fantastica. Tanto divertimento, la gente ha voglia di divertirsi, di stare insieme, di iniziare un 2023 in allegria. Il sindaco Gaetano Manfredi dal risultato della piazza fa scaturire una riflessione ardita. Napoli così entra nel novoro delle grandi capitali europee, così come l'impegno serale per tenere aperti i funicolari e il trasporto su ferro, o quello della SIA per la notte di San Silvestro, sarebbero elementi da evidenziare. Una bellissima serata, una piazza plebiscito piena all'inverosimile, una grandissima energia che parte da Napoli per un 2023 di speranza, di futuro, di giovani, ma anche di solidarietà e di equità. Quindi un grande buon anno che viene da Napoli e che abbraccia tutti. E' di 16 i feriti il bilancio dei botti di Capodanno tra Napoli e provincia. 13 in città, tra questi 5 sono minorenni, 2 a fratta maggiore, un ragazzo e un adulto e un minorenne a Pozzuoli che ha subito una ferita alla mano. Ma l'incidente più grave ha interessato un sedicene di Caivano ferito al volto da un colpo di pistola all'interno dell'area residenziale del Parco Verde. Il ragazzo di Viareggio, ma figlio di Napoletani che erano a Caivano per festeggiare con la famiglia, era affacciato dal balcone insieme allo zio, mentre in casa si brindava al nuovo anno. Poi, nel frastuno dei botti della mezzanotte, ha avvertito un dolore al volto e ha iniziato a sanguinare. Accompagnato dal padre al pronto soccorso dell'ospedale di fratta maggiore, i sanitari gli hanno riscontrato due fori sul viso, uno all'altezza della mascella destra, l'altro a quella sinistra, verosimilmente ingresso e uscita di un proiettile di piccolo calibro. Il 16enne è stato medicato e poi dimesso, mentre i carabinieri hanno avviato le indagini. Colpi di pistola sono stati esplosi nella notte di Capodanno anche in via Ferrara, a Napoli. La polizia è stata allertata da alcuni residenti e gli agenti, una volta sul posto, sono risaliti all'appartamento dal quale erano stati esplosi i colpi. Entrati in casa, i poliziotti hanno trovato una pistola a salve, calibro 8. Un 48enne napoletano è stato denunciato e la pistola sequestrata. Poco dopo la mezzanotte all'ospedale San Paolo di Napoli è stato invece soccorso un cinquantenne che poco prima era stato colpito al volto da un petardo mentre era affacciato al balcone. Tanti feriti alle mani, soprattutto per aver raccolto botti inesplosi in strada, mentre un ragazzino è rimasto ferito in auto a causa dello scoppio dell'airbag che si è attivato per la forte esplosione di un petardo in strada. Il minorenne è stato colpito in pieno volto e ricoverato per un trauma oculare. Numerose anche le auto danneggiate o distrutte, soprattutto in provincia di Napoli, a causa dei botti. A torri annunziati i carabinieri sono intervenuti per un incendio all'interno di un parcheggio delle ferrovie dello Stato. Era questa l'ultima notizia del nostro videogiornale. Appuntamento a domani con la nostra informazione. Arrivederci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS